Il levico ha disarmato la carica sull'intensivo Alpha. Il levico ha disarmato la carica sull'intensivo. La carica è pronta sull'intensivo Alpha. Abbiamo piazzato la carica sull'intensivo Alpha. Il levico ha disarmato la carica sull'intensivo Alpha. Il levico ha disarmato la carica sull'intensivo Alpha. Sì. Tirati e riporta qui il culo! Aaaaaah!